Augusto De Santis, il 23 maggio a Lanciano si terrà un'importante manifestazione per dire no alla petrolizzazione nella nostra regione, ma state portando avanti una campagna importante a livello ambientale? Sì, perché il nostro mare Adriatico rischia di diventare una vera e propria groviera di trivelle e di buchi alla ricerca del petrolio, con gravissimi rischi per la nostra economia turistica perché basta un piccolo incidente per rovinare il presente e il futuro della nostra regione. Ora noi abbiamo convocato questa manifestazione per sabato, 23 maggio, invitiamo tutti a partecipare, anche aderire all'iniziativa, comuni, associazioni, movimenti, comitati possono aderire per manifestare la loro contrarietà che già hanno fatto nel passato, la loro contrarietà all'economia del petrolio che è solo fatta a favore dei petrolieri che ci guadagnano, magari sono di altri stati e non neanche italiani, contro un'economia diffusa che è quella dell'agricoltura di qualità e del nostro mare e del turismo. Voi vi rivolgete anche alla regione però? La regione sta facendo la sua parte, può ulteriormente garantire un supporto a questa lotta che sarà fatta di manifestazioni, iniziative, di raccolte firme, pressioni sul governo e anche ricorsi e denunce nel caso.